Tutti non fanno che parlare di questo killer ragno. La gente ha paura di uscire di casa. In sei mesi la polizia non è riuscita a trovare un solo indizio. Com'è possibile che non ci sia neanche una traccia? Ripulirò le strade da quelle puttane. Non mi fermerò. Alcuni dicono che il killer porti avanti una sua battaglia contro le peccatrici. Tu sei una di quelle. Ripulirò! Ripulirò! Quello che ho fatto l'ho fatto in nome di Dio. Andrò avanti. Non ho ancora finito. Lo che ho fatto odora di Dio. Grazie.